Oggi vedremo la distribuzione del mio portafoglio in criptovalute Faccio questo video perché spesso mi fate domande ovvero Che token hai, che token vuoi comprare, quali regole hai nel tuo portafoglio Quali farm stai utilizzando Quindi cercherò di rispondere a molte di queste domande con questo video Quindi adesso metto la sigla e ci vediamo tra un attimo Iniziamo con lo spiegare la semplice distribuzione Quindi al momento abbiamo 20% in Bitcoin, 27.5% in Ethereum, 7% in Convex, 6.5% in Aura, 3% in Farm o Airdrop Quindi sono token O che ad esempio sono loccati come i Crystal di FK O sono loccati come i Luna che mi hanno airdroppato dopo che Luna è crashato O sono airdrop come Ethereum Proof of War che non ho intenzione di toccare per ora Costuriscono il 3% del portafoglio quindi alla fine sono arrivati a diventare una grossa fetta Un po' perché le farm aspetto un pochino a venderle Un po' perché gli airdrop a volte sono abbastanza grandi Quindi è diventato il 3% del portafoglio 36% invece su Stablecoin Stablecoin sono tanti tipi di Stablecoin Quindi c'è DAI, USDC, USDT, GUSD, PUSD, FRAX e tante altre Quindi cerco di dividere davvero in tante Stablecoin Così se una sola fallisce non è un così grande problema Ricordando USDT Quindi questa è la distribuzione che c'è adesso Questa distribuzione può tranquillamente cambiare Numero 1 perché il prezzo delle monete cambia Quindi cambia la distribuzione Quindi ad esempio Aura era più piccolo fino a pochi giorni fa Però è salito di un bel po' Quindi era tipo 5% o 4% qualche giorno fa Adesso è 6.5 Un pochino perché queste Stablecoin verranno usate per comprare altre monete Quindi l'obiettivo è andare a ridurre lo Stacking Stablecoin Non andarlo a togliere Quindi andare a ridurre di un pochino lo Stacking Stablecoin Per andare a comprare delle monete Come ad esempio altre Aura, altre Convex, altre Ethereum E altre monete che poi vedremo nella Wishlist Qua a destra ho dei KPI Per me è importante sapere perché io ho queste monete Quindi perché io continuo a ottenere Ethereum Perché io continuo a ottenere Convex Perché continuo a ottenere Aura L'unica moneta su cui non mi faccio domande Sul perché io ce l'abbia ancora È Bitcoin Un pochino anche Ethereum Però anche là sto a controllare Però Bitcoin è l'unica moneta su cui effettivamente Non mi faccio domande Sul perché io ce l'abbia Cosa ce l'ho a fare Non continuo a seguire il suo andamento Ce l'ho e basta Potrei anche una parte di questi a una certa venderli Ma io per ora Bitcoin ce li ho e basta Quindi vediamo questi KPI KPI vuol dire Key Performance Indicator Quindi sono dei numeri che mi aiutano a capire Come stanno andando le cose Quindi uno dei miei KPI più importanti è questo Per Aura e Convex Ovvero il numero di dollari guadagnati in emissioni Nel protocollo per ogni dollaro speso in mazzette In bribe Quindi al momento Aura è ancora molto profittevole Quindi potrebbe salire ancora molto di prezzo Il mio secondo KPI è proprio questo Quindi vedere quanto si guadagna per Aura alloccati Quindi quella linea gialla In realtà la linea blu è importante Ma non particolarmente La linea gialla è la cosa più importante Ovvero quanti dollari si guadagnano per Aura alloccati Quindi Aura sta andando bene Perché i miei KPI stanno continuando ad andare bene Adesso andiamo a vedere i KPI di Convex Stessa cosa Quindi Convex è meno profittevole di Aura E i dollari per Convex stanno scendendo Anche se più o meno hanno trovato una base verso il 0.6 Quindi se non dovessero scendere ancora da dove si trovano adesso La cosa andrebbe bene Se dovessero scendere sarebbe preoccupante Quindi non posso vendere i miei Convex perché sono alloccati Però potrei smettere per un pochino di comprarli L'altro KPI è su Ethereum E principalmente guardo come stanno andando Come stanno andando le polisi monetarie del Merge Perché queste polisi monetarie come ho detto più volte Sono le migliori nelle cripto Quindi il vedere l'andamento di queste polisi monetarie Mi fa capire come sta andando Ethereum Quindi poi come ho detto Bitcoin non mi faccio neanche domande Stablecoin diciamo basta che stiano un dollaro mi va bene Quindi i KPI per il mio portafoglio sono solo questi tre Perché ho solo tre monete da guardare per ora Perché ho così poche posizioni Andiamo a vedere la divisione in old e farm Ho il 75% di Bitcoin in old Il 25% in farm Principalmente su 3Crypto Quindi le ho messe in una posizione delta neutrale Bitcoin, Ethereum e USDT Quindi sono delta neutrale Però vado a farmare quel 10-13% che mi offre 3Crypto ogni anno Poi ho un 55% di Ethereum in farm E un 45% in old Un 35% di stablecoin in old e 65% in farm E poi praticamente tutti gli Aurei Convex sono a farmare Perché poi quelli che vedete in blu Quindi quelli in old Sono semplicemente i reward che ho avuto Proprio da Aurei Convex Quindi io voto per avere Aurei Convex Quando li ho non li tiro sempre fuori Aspetto magari un pochino Quindi quello che vedete sono i reward che ho avuto Dai protocolli stessi Per le farm Come potete vedere ho circa il 43.2% del portafoglio in old Ho un 1.5% del portafoglio che è in luna Ed è totalmente a farmare su Terra Station Perché non li posso vendere E sono quelli dell'Airdrop Ho un 22.5% nel farm di Convex Qua sono principalmente in come detto 3Crypto E Ethereum Staked Ethereum Questa potrebbe cambiare perché sono molto interessato A Frax Ethereum Quindi probabilmente arriverà anche un video Su Frax Ethereum perché è molto interessante Quindi principalmente sono in quelle due Sono in qualche altra farm Però principalmente sono in quelle due Poi ho il 6.5% in Aura Il 6.8% in Convex L'11.7% in GLP Quindi ho depositato GLP in Long Quindi Long vuol dire che io ho depositato Stable Coin Quelle Stable Coin sono state vendute per comprare i tiri un Bitcoin Eccetera E quindi se il mercato sale Io guadagno dalla farm di GLP Non solo dallo Yield Ma anche da come funziona il GMX E quindi ho l'11.7% in GLP Ho il 7.8% in Stargate Stargate devo dire che non è una farm incredibile Quindi mi dà spesso tra il 3 e il 5% anno Sulle mie Stable Coin Però la ritengo abbastanza sicura Non è impossibile che venga hackerata Però la ritengo abbastanza sicura Il team sembra molto buono Quindi mi sembra un posto come un altro sicuro Per parcheggiare le mie Stable Coin In maniera a delta neutrale Perché poi è single side staking Quindi non cambia per come cambia il mercato La PR totale del mio portafoglio è 14.8% 14.8% contando anche la parte in hold Quindi anche questa parte che fa lo 0% di yield Viene contata in questo 14.8% Quindi la totalità del mio portafoglio guadagna il 14.8% annualmente Adesso andiamo a vedere un po' di regole Queste sono state semplificate perché in realtà non sono esattamente così Ho molte più regole Ho delle regole per delle monete specifiche Quindi spesso parlo di regole all'interno del portafoglio Questi li ho chiamati 10 comandamenti Però diciamo che le mie regole sono un pochino diverse Però queste possono rendere l'idea Quindi la regola numero 1 è che la percentuale di Stable Coin nel mio portafoglio Dove essere inversamente proporzionale al market cap di Bitcoin Quindi se Bitcoin sale la mia percentuale di Stable Coin scende Se Bitcoin scende la mia percentuale di Stable Coin sale Questo accade anche in maniera automatica Proprio perché siccome Bitcoin scende si porta giù tutto Quindi le Stable Coin essendo stabili salgono di percentuale Ma avviene anche perché poi vado a vendere delle monete Quando c'è una situazione di bear market come questa Il valore nominale di Bitcoin non può essere superiore al 110% di quello in Ethereum Sono convinto del fatto che Ethereum andrà a flippare Bitcoin nei prossimi anni Non sarà una cosa che succederà adesso Però nei prossimi anni sono convinto che Ethereum andrà a flippare Bitcoin O andrà completamente a fallire se ci deve essere una catastrofe Quindi sono ancora bullish sui miei Bitcoin Però il punto è che sono in questo mercato per fare i soldi Quindi la mia tesi è che Ethereum andrà a superare Bitcoin E quindi lo vedete anche nel mio portafoglio La distribuzione è più su Ethereum rispetto che Bitcoin Il valore complessivo dei miei Bitcoin e Ethereum non può essere inferiore al 45% Questa regola è una di quelle che può essere un pochino cambiata o infranta Come vedete c'è un circa quindi c'è una tilde E quindi non può essere inferiore circa al 45% In bull market viene violata questa regola Quindi o viene cambiata o cerco di farlo Però è molto difficile in bull market Tutti i token accumulati vengono venduti nei giorni verdi Quindi dipendentemente dalla tesi Quindi se ad esempio vado a farmare GMAX Io i GMAX non li vendo perché li voglio accumulare Se vado a farmare Converse non li vendo perché li voglio accumulare Però se vado a farmare token come Stargate Stargate lo vado a vendere quando ha dei giorni verdi Quindi ho farmato per mesi Stargate Poi è stato listato su Binance e ha avuto un più 200% e più 300% E in quel giorno sono andato a venderlo Quindi non vendo i token farmati costantemente Ma li vendo solo quando hanno dei giorni o verdi o particolarmente verdi Il valore complessivo dei miei BTC, Ethereum e Stable non può essere superiore al 90% del mio portafoglio Questo al momento è un po' complesso da fare Dato che se Aura e Converse perdono un po' di valore si arriva al 90% Però in bull market è facilissimo da rispettare come regola Questa è una regola molto importante Prima di comprare un token devo riuscire a spiegarlo in termini semplici a chi non è nel mercato Quindi chi non è nel mercato deve volermi ascoltare Quindi non deve essere una persona che non c'entra niente Non vuole sapere niente di criptovalute Quindi questa persona deve volermi ascoltare Ma devo essere in grado di spiegarlo Devo riuscire a spiegare la value proposition del token che voglio andare a comprare Perché lo voglio andare a comprare Quale problema esiste Quindi devo riuscire anche a spiegare il problema che questo token va a risolvere Ogni investimento deve avere dei chiari KPI quantitativi con delle regole legate alla variazione KPI Quindi cosa vuol dire KPI quantitativo Questo è un KPI quantitativo Perché è un numero Io posso vederlo Posso dire ok quindi sta andando bene Posso vedere quest'altro E posso dire ah sta andando peggio Però comunque sta andando bene Quindi devo avere dei numeri Per quasi tutti gli investimenti che ho Devo avere dei numeri che mi dicono come sta andando quell'investimento Perché io quando mi sveglio Apro tutte queste tab Vedo come stanno andando tutti questi KPI E ho un'idea di come stanno andando tutti gli investimenti Quindi come sta andando tutto il portafoglio Quindi tutti o quasi tutti gli investimenti Devono avere dei KPI chiari e quantitativi Se sento fumo vendo Regola molto semplice che ripeto spesso Devo evitare tutti i passaggi intermedi Come con Green Finance dove sono stato creato Quindi Green Finance era un autocompounder Era un passaggio intermedio inutile E sono stato creato per questo motivo Non devo mai investire più del 2% del portafoglio In una sola transazione Se non per comprare Ethereum Stable O Bitcoin Quindi quelle tre vanno bene Però non posso mai spendere più del 2% del portafoglio In una sola transazione Adesso andiamo a vedere la wishlist Quindi i token che io vorrei comprare E perché li sto tenendo d'occhio Andiamo a vederli velocemente Abbiamo GNS Ho già fatto un video su GNS Ho dei KPI su GNS Che vado a guardare Ne ho parlato anche su Discord Quindi ora non li andiamo a vedere Però la cosa importante È che anche sulle monete che io non ho Ho dei KPI Per poter andare a capire Quando posso andare a comprarli E quando no Ho una posizione desiderata del 3% Ma questo è molto variabile Ho FXS Che vorrei davvero 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 tanto comprare Ma non riesco ancora a giustificare una spesa del genere Quindi vorrei il 5% in FXS Ho una KPI abbastanza chiara per FXS Però ha un opportuno di costo troppo grande al momento Non riesco a giustificarmelo Voglio comprare i FRAXIT Semplicemente vorrei spendere il 20% dei miei Ethereum Per comprare i FRAXIT E andare a farmare Quindi niente di che Comunque è una moneta stable rispetto a IT Quindi non cambia molto la posizione del mio portafoglio Voglio comprare GMX E stesso concetto di GNS Quindi KPI abbastanza chiari Posizione più grande di quella di GNS Perché GMX comunque è più grosso rispetto a GNS Roon ha una tokenomics che mi piace molto E vorrei una posizione desiderata del 2% Come vedete tutti questi hanno dei KPI molto chiari Che è molto facile per me andare ad aprire Vedere E capire come sta andando Per capire se effettivamente ha senso Puoi andare ad aprire la posizione che io voglio Oppure no Qua ho anche una descrizione di quello che vado a cercare nella moneta Quindi nella mia tesi In quello che secondo me anche le altre persone andranno a cercare nella moneta Poi ho delle monete rischiose Per cui non ho una tesi Non ho dei KPI E non ho una posizione desiderata Sono delle monete Che potrebbero fare bene Potrebbero fare male Se mi ritrovo un airdrop Da qualche percentuale del mio portafoglio A gratis Vado a comprare queste monete E me ne scordo Quindi abbiamo Xmon Aptos, Manifold, Balancer, SNX e LUSD LUSD poi è una stable coin L'ho messata nelle monete rischiose Semplicemente perché è una stable coin Che non è mai stabile Quindi comunque è rischioso Quindi questo era il mio portafoglio Le mie farm La mia wishlist I miei comandamenti Spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate su Discord Vi lascio il link di Discord in descrizione Potete scrivermi su YouTube O su Discord Rispondo su entrambi Grazie a tutti